bisogna fare in modo che il segnale sia abbastanza potente da superare il blocco deve essere sufficiente installare l'amplificatore sull'antenna più alta di Arran se vi dice che conviene passare per le foglie ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dynelight ok e allora che cosa abbiamo ho ricevuto un nuovo completo eh allora quindi devo arrivare alle foglie ah bene ce la farò ho il mio rampino pronto chi lo sa uoi wow ok un attimo mi sono confuso ok quindi devo raggiungere le foglie dicevamo ahah in che tanto funziona la mossa alla Spider-Man c'è il tunnel delle foglie per raggiungere la torre ok scommetto che nelle foglie ci saranno 10 miliardi di zombie da aspettarmi però facciamolo hmm le passate di là magari non sarebbe male opla ehi ciao questi zombie ora stanno anche sui tetti eh non è più sicuro come una volta non ci sono più gli zombie di una volta nope wow è rampino wow ok beh puoi stare tranquillo amico non ne può fregare di meno di voi quindi dove devo arrivare precisamente ah sono molto vicino va bene eccolo là sarà quello sembra più un tunnel per la metropolitana perché per le foglie uh uh hello ok proseguiamo oh porca miseria no non volevo fare questo honestamente però vabbè ciao fammi seguire ti prego porca oh no questo è un bagno oh shit è quello sta arrivando ah ok ottimo lavoro amico uff ma che è sto posto a quanto pare non è quello che mi aspettavo va bene così oh no uh one shot certo in effetti ho potenziato un bel po' quest'anno mmm ho fatto una passeggiata ok problemi risolti allora stavamo dicendo lame pezzi di metallo tutto a posto ok di qua quindi dove si va a parte questa e dai bene problema risolto dicevamo ah apri guarda un po' ma ciao io qua chiudo ecco scassiniamo ok ragazzi preparatevi a farvi due risate con la mia non abilità eh sono riuscito ad aprirlo al primo colpo strano senza rompere nulla sembra quasi strano allora te la lancio un po' di caffè ci sono altre cose no ok proseguiamo questo posto non mi piace per niente beh a chi piacerebbe non saprei proprio ok si entra nelle fogne veramente adesso bisogna fare in modo che il segnale sia abbastanza potente si 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 lo sappiamo già che dobbiamo sbrigarci prima che bombardino tutta la città ah fantastico cerco il percorso sotterraneo per raggiungere la torre radio hm non so voi ragazzi ma è tutto troppo calmo hello hm qualcosa non va c'è troppo silenzio odio quando c'è troppo silenzio aha perché è salito come se fosse notte no non mi piace per niente proprio zero totale esatto sale come se fosse notte fuori questo perché è morto vabbè oppure sembra integro hm io qua mi armo sentono dei voci oddio oddio hm ehi sono armato al massimo fine denti c'è corso è un bambino no stanno dentro quella porta ragazzi ah porca dai oh che spalfio è oh fuck devo eliminarlo purtroppo ma non ho idea come bombola allora oh ma dai eh che cosa pensi di fare con sto lancio allora devo ammetterlo mi vengono i brividi con sti specie di pianti che fa ma ti prego no non la posso picchiare no assolutamente no vabbè no no assolutamente non ci arrivo allora ho bisogno di una molotov progetti molotov eccola qua ok assolutamente non sta tirando niente di particolare però allora il rampino qui non mi servirà ok oh mamma mia ma che ecco ora è entrato si oh cazzo io uso il kit medico si ma come non l'ho fermato in tempo ci ha messo dieci anni merdaccia allora tutti qua tutti qua allora tu primo no tu presto lui shit sfaggio ora ho capito perché ci sono tutte ste bombole perché sono così duri no va bene va bene va bene e vai tu pure prossimo no calmati mamma mia ecco un'altro cosa via accidenti a voi e alle vostre fognature di mierda ancora ora ma che cavolo è non finiscono mai vai fan 13 ma che cavolo è ma quanti sono oh shit oh mio dio c'è pure mister bestione fantastico sono probabilmente morto si esatto sono troppi ok 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 fantastico beh sicuramente da questa posizione viene molto meglio scusami dammi la mia spada ok quindi non salite non salite la possibilità oh no qual è un problema se riesce a venire qui però devo aspettare si però aspetta si questo è un buon vantaggio lo indeboliscono ah ancora più se la fosse morte per un attimo posizione fucile ok oh vabbè so che è un po' cheat ma niente al metto per te oh 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 ecco qua risolto il problema risolto il problema di quello grosso tu che vuoi ok allora piano piano vi sistemo meno un altro meno un altro do 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 double kill yes ancora ma siete infiniti o no? va bene ho rotto le scatole nel stand no mi sa che sono infiniti ragazzi ok via corri scappa ci sono gli zombie altro che nemesis via oh no vabbè sto mondo mi fracello e basta vai forza chi è il primo vai davanti beh quindi fuck off vai pezzo di disgraziato come vado a se attaccarmi alle spalle ehi pensi di essere agile non hai visto me eh crepa uff mamma mia ragazzi no dai sprigati ok sistemato non sono zombie niente ok stavo scherzando ehi ehi sei rimasto solo tu spero di si tanto macete ok ehm beh di qua di sicuro non si passa ehm proviamo di qua spero che sia la strada giusta nonostante ops mi ero dimenticato di questo particolare ok problema abbastanza facilmente risultato questo tipo eh no sono quasi livello 11 per quanto riguarda il combattimento apri sta porta e basta questa musica quando è che finisce mi sta mettendo sotto pressione inutilmente ehm allora là ci sono un paio di scuda banane mi pare devo passare di qua hmm vorrei avere un arco qualcosa del genere per non fare troppo rumore ma troppo no non esiste ok esatto 1 esatto 2 dove è il prossimo è sempre sotto dice la minimappa ma là ce n'è uno hmm prossimo eccolo qua non in testa ora si problema risolto ok sembra che si stia calmando la situazione o così sembrerebbe eeeh allora proseguiamo ok come arrivo da qui alla sua vediamo di arrampicarci beh certo che ci dobbiamo arrampicare finora abbiamo fatto sempre così no? ma il fatto è ecco qui dai oh dai che ce la fai dai che cavolo no no tu sei un po' morto si munizioni per la carabina fantastico a quanto pare ero avevo il permesso di utilizzare questa cosa ah sono aumentate sicuramente 154 non ricordavo che ne potessi portare così tante 160 che strano può essere che ho cambiato il tipo di carabina forse per questo può essere assolutamente si hmm va bene continuiamo esaminiamo un po' la situazione allora questo tubo è probabile che lo debba utilizzare e devo finire qua poi ehm ah ah non posso usare il rampino però mi posso arrampicare sul tubo che arriva da quella parte perfetto ho azzeccato la soluzione ragazzi strano ma vero ah tutti questi suoni così certo niente male niente male uff ottimo lavoro mmm molto bene mi rampico sui tubi blu wow mi hai salvato grazie a quanto pare non riesce a passare di là però di quasi vabbè normale non riesce ad allungare un attimo il braccio per cambiare direzione ma va bene così ah vediamo cosa in particolare niente di strano ok sono andato tutto a posto scherzavo bravo ottimo salto non hai capito assolutamente quello che volevo fare oh come perdere 200k di vita in un attimo tutto perché ho detto 200k di vita però ah vabbè no ma perché non ce la fai a fare un bel salto di quelli seri e arrivare lì beh credo che lo può ah fudge spettita di saltare come un babbeo ok allora riproviamo ricominciamo oh tubo blu tubo blu che rottura ok non dirmi che devo ammazzare tutti quei cosi sembra bello no no va tutto bene vabbè guarda il lato positivo ho ripreso tutta la mia vita yeah ok quindi dicevamo saltiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua suoni che a modo loro mettono un po' di ansia sicuramente odio questi posti completamente chiusi come le fognature o che ne so preferisco un palazzo cioè mi piace di più l'idea di essere in città oh arrambica di vecchia di giuro te ne do tante la soluzione deve essere quasi per forza di là ce la fa con un salto no ma dai ma sono un idiota al solito io mi complico la vita per nulla bene bravo me ok quindi che sta succedendo sputatori vediamo per caso ho messo quel talento che mi permette o meglio quell'abilità livello leggenda che è sta roba ah già che hanno fatto qualche mega upgrade update al gioco oh no sono cambiate un sacco di cose qui oh si un sacco di cose no sopravvivenza tutto ok forza hmm piera stasso no non c'entra vabbè one shot ah no ho ucciso che cavolo è wow hello prossimo double kill allora livello di forza aumentato vediamo cosa c'è qui fuori omicida ottieni i punti di forza più velocemente per 10 secondi dopo aver ucciso un nemico più nemici fuori più punti di forza ottieni wow nice è probabile che andrò per questo hmm che terra richiede arma a due mani che io non uso quindi andiamo per questo sì 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 spero che non sia un bomber ok shuriken pronto in caso ok mamma mia è pieno pieno dovevi farlo di nascosto questa cosa non mi spiego prima ucciderli tutti e basta cioè mi secco un po' a nascondermi da sti zombie perché li uccido abbastanza facilmente dai si fa tutto dal silenzio con un po' di silenzio semplice semplice ok tu non hai sentito nulla scudo il becco ok qui c'è qualcuno sì in effetti è vero l'incremento di punti che prendo si sente niente male ottima scelta devo dire andiamo prendo questo porca la miseria ma che razza di fognature sono che praticamente sono abbiate dentro qualche palazzo o qualcosa del genere ragazzi ma spiegatemi voi ok vediamo che c'è qui poi questa musica mamma mia certo non aiuta a calmarsi forse sono arrivato a quanto pare sì va bene molto bene bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video che arriveranno molto presto e soprattutto condividete con i vostri amici su facebook twitter o dove preferite ovviamente continuerò a registrare ancora un po' vedremo un po' di dare una bella scossa a questo gioco quindi per il momento è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.